Hanno concluso l'operazione di spoglio, abbiamo i dati ufficiali definitivi, sicuramente è stato bello, sicuramente un risultato che concretamente va a dichiarare a tutto il territorio, che la progettualità di questi due anni, che ha visto superare gli schieramenti politici, lavorare per il territorio, dare risposte alla necessità in modo assolutamente concreto e nell'interesse di tutti i territori e di tutti i cittadini, ha dato una risposta chiara e un risultato sicuramente importante, perché di fatto questa progettualità, visto nelle almeno due liste che sono proposte dai amministratori, condividere questa progettualità insieme rappresentano almeno l'80%. Io mi auguro, come abbiamo sempre detto, che diventi il 100%. Al di là degli schieramenti politici, quindi un risultato che comunque premia una progettualità nel territorio? Sì, questo è quello che emerge in modo forte ed è anche molto bello, era una scommessa difficile, soprattutto per la politica locale, lanciamo un messaggio forte al territorio, che c'è chi vuole continuare a lavorare senza ma, voglio anche poi far emergere un dato straordinario, su 16 eletti in consiglio provinciale, quindi neoconsiglieri provinciali, ci sono 10 sindaci, un vicesindaco e 5 consiglieri comunali. Con tutto rispetto di tutti gli amministratori, però un dato importante è sicuramente avere 9 sindaci su quelle due liste che hanno già dichiaratamente condiviso questa progettualità con un vicesindaco e il resto sicuramente sono sicuro che si unirà, perché di fatto il territorio unisce e su questo noi cerchiamo sempre di migliorare, perché alla fine il territorio di tutti non è nessuno, una maggioranza che comunque vi darà forza anche per chiedere più risorse a livello nazionale, a livello del governativo, per queste province che sono così in una fase difficile. Sì, è un consiglio provinciale neoeletto che si pone di lavorare con le basi e con uno start-up assolutamente sereno, ma anche che avrà la forza nei numeri, quantomeno se non nella sua totalità, ma sicuramente nei numeri in larga maggioranza per esprimere quelle che sono le necessità del territorio, quelle che sono le necessità anche economico-finanziarie e soprattutto saprà con le massime cariche, come dicevo prima, di primi cittadini, portare all'attenzione di chi di competenza di quella che è la realtà e non invece solo quelli che sono i numeri che molto volte sono freddi e vengono interpretati. No, la realtà è un'altra cosa, la viviamo tutti i giorni e noi abbiamo bisogno di dare le risposte ai cittadini che meritano. Grazie.